Perché ogni volta che scrivo sul mio fighissimo computer Apple, ci scrivo Ronzulli, il mio computer regredisce fino a trasformarsi in un Olivetti dell'83. Perché avendo un passato lavorativo in ambito medico, può tornare ad essere utile nell'ambito della ricerca scientifica, facendo la cavia da laboratorio. Ma no, è importante, è un ruolo serio, uno scienziato dice, ma funziona questo siero antico? Di vipera? Non lo so, testiamolo sulla Ronzulli.